Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 9 ottobre, ci sono tantissime informazioni, non perdiamo tempo e mi scuso perché ieri ho dormito, anzi non tanto perché ho fatto il convegno sui giochi, quindi poi alla fine ho dormito fino a un certo punto e non ho fatto la zuppa. Cosa è successo? Mentre io dormivo i parlamentari si tagliavano le palle, cioè sostanzialmente ieri che cosa è successo? Che i parlamentari italiani, come qualcuno ha detto, hanno fatto i tacchini poco prima del giorno del ringraziamento, hanno deciso di ridursi nel loro numero, hanno fatto questo per migliorare la situazione italiana, per rendere noi più ricchi, per riuscire a rendere le cose più semplici, per diminuire le tasse, per rendere meno regole in questo paese? No, hanno fatto questo per prendervi per i fondelli, nel senso che gli italiani così diranno, ecco la casta non c'è più, siccome questo non avverrà, si tratta di una gigantesca presa per i fondelli in cui i politici che come al solito capiscono zero e soprattutto sono aderenti molto poco alla realtà, pensano che nel bar questa mattina la gente dirà bravo Di Maio che ha tagliato i parlamentari, ora sì che cambierà la vita in questo paese, ora sì che mio figlio avrà un lavoro, ora sì che ci saranno norme più semplici per i professionisti, ora sì che rivedremo gli tutte balle, ma comunque ce la raccontano come riforma storica, riforma storica che ricorderanno i nostri figli e i nostri nipoti, ha detto Di Maio, l'unica cosa che di storico c'è oggi è quello che lui forse non ha studiato, cioè la storia stessa, perché di storico c'è nulla, anche Conte dice storico passaggio, fantastico Massimo Giannini oggi su Repubblica che dice quanti storici passaggi negli ultimi due anni ci sarebbero stati, è finita la storica fine della povertà quando approvarono il DEF del 2018, è la storica fine del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori col decreto dignità che ha ucciso il mercato del lavoro e la flessibilità, la storica fine dell'immigrazione su Malta, ne parleremo tra poco con l'accordo fatto a Malta che è una minchiata pazzesca e soltanto la metà basta, la cosa vera è che questa è simbolicamente una vittoria del Movimento 5 Stelle, obiettivamente è questo e quando io sento Giacchetti che è un deputato del PD, che poi è passato con Italia Viva di Renzi, che vota a favore di questa riforma perché tutto il Parlamento, tranne 14 coraggiosi hanno votato a favore della riduzione dei parlamentari, quando vedo Giacchetti che da una parte vota per la riduzione dei parlamentari e dall'altra dice che farà il referendum contro questa legge io dico ragazzi questa è l'Italia, cioè se questo è il PD come dice Carlo Nordio oggi in un bellissimo pezzo sul messaggero, questi pensano veramente di essere in un altro mondo io mi chiedo Giacchetti ma che cazzo di senso c'ha? Votare a favore della riduzione dei parlamentari poi uscire dal Parlamento e fare un referendum? Ma chi ti capisce? Ma chi può capirla questa roba di Giacchetti? Certo capiscono di più il tuo amico, il tuo alleato Di Maio che dice che questa è una riforma storica, come la storica riduzione della povertà. Nel frattempo Bellissimo Minzolini, come tanti altri, notano una cosa fondamentale, che di storico sapete cosa c'è? La cronaca dei prossimi due anni, che siccome si sono tagliati le palle, questi parlamentari, che sicuramente non verranno rieletti anche perché ci saranno meno posti, cercheranno di far finire questa legislatura il più tardi possibile, cioè il taglio dei parlamentari avrebbe servito una sola cosa a rendere questo governo o chi per lui eterno fino alla fine dei giorni di questa legislatura. Nessuno vorrà andare a elezioni anticipate. Cerasa, non riesco a capirlo, oggi sul foglio dice che questa non è una roba contro la democrazia, è ridicolo dire che con questa roba qua si inficia la carta costituzionale, sono d'accordo con lui su questo e questa non è una vittoria del Movimento 5 Stelle. E sì, e di chi è? Di Renzi? Ma di che stai parlando? Ma di chi è? Certo che una vittoria del Movimento 5 Stelle che potranno dire, secondo me, senza nessun appeal nella società, perché la società pensa ad altro, ha capito le cazzate del Movimento 5 Stelle, insomma, che questa sia una grande riforma storica. By the way, i risparmi, che erano i motivi per i quali questi la facevano, pare lo 0,007, come calcola Cottarelli, del PIL. Non vale niente i risparmi, anche perché avresti dovuto licenziare i dipendenti della Camera, non lo so, avresti dovuto ridurre le pensioni, avresti dovuto fare tutta una serie di cose che ovviamente non faranno. La battuta di Osho è bellissima, sul tempo di oggi, in cui si vede Fico e Di Maio che parlano e Fico dice a Di Maio, ho queste sedie da qualche parte, forse in campagna gliele posso mettere. Una cosa di queste, poltrone ci stanno bene in campagna, perché ce ne sono troppe, non sanno più dove metterle, ovviamente quelle che ci sono fisicamente sia alla Camera sia al Senato. Detto questo poi dovranno fare un accordo perché tagliano ovviamente i parlamentari, arrivano 200 senatori e la maggioranza è di 101 al Senato e bisognerà forse cambiare qualcosa nelle leggi elettorali, ma di questo ovviamente che l'unica vera cosa importante non se ne parla. Ma questo è il mondo dei giudici, in cui oggi sono due notizie incredibili. Il Tar del Veneto decide che un prestito fatto da Franceschini alla Francia dell'uomo Vitruviano di Leonardo non si può fare sul ricorso di Italia Nostra. Allora io dico può essere questo un paese in cui un ministro, altro che taglio dei parlamentari, non può decidere come scrive Sgarbi oggi sul giornale una cosa sacrosanta? Noi vi diamo l'uomo Vitruviano, voi ci ridate un Raffaello così che si possono fare due belle mostre? Ecco, questo non è possibile perché in questo cazzo di paese c'è il Tar del Veneto che sul ricorso è l'Italia Nostra, ma chi so decide che non ha ragione il ministro Franceschini. Ho appena attaccato sul mio sito dicendo che quando dice che l'Italia di Gotham City era quella di Salvini, dico se è un cazzone perché non era l'Italia di Gotham City. L'Italia di Gotham City è quella in cui il Tar del Veneto si fa le sue leggi, decide le sue sospensive. Ma che paese è? Ma cosa può fare un ministro se non può neanche prestare un quadro? Beh, non può fare nulla e noi stiamo a pensare alla riduzione dei parlamentari, questo vale per i quadri, ma vale se il ministro non può fare nulla, pensate gli altri. L'altra cosa che succede è che la Corte di Giustizia europea decide che l'ergastolo ostativo, quello senza benefici, senza permessi, è che su 1166 ergastolani italiani vale per 1000 ergastolani, è fine pena vai, ed è una cosa obiettivamente disumana. Ma il punto fondamentale è che la Corte di Giustizia europea, sul ricorso di uno di questi signori che ha l'ergastolo ostativo, dà ragione al ricorso del mafioso e dice che non si può più fare. Quindi l'Italia si dovrà adeguare. Nel frattempo tutti i mafiosi, non so che vi posso dire i peggiori che voi possiate immaginare, avranno la possibilità di uscire dal carcere con permessi e benefici. Il punto ragazzi non è tanto che, e non lo riesco a leggere bene sui giornali oggi, non è che è disumano l'ergastolo ostativo, ma la cosa fondamentale è che è disumano come si danno permessi e benefici in maniera così larga in Italia. Quindi noi siamo come al solito un popolo di eccessi, da una parte diamo troppo benefici ad alcuni e dall'altra invece di muriamo in carcere ai mafiosi. Si potrà trovare una via di mezzo, troveremo una via di merda sicuramente, perché questi faranno ricorso e ci troveremo la gente per strada, come tutti quanti oggi prevedono, ma soprattutto dicono i magistrati che questo era l'unico strumento che avevamo noi, nelle interviste che oggi fanno, per spaventare mafiosi e terroristi, cioè quelli di far capire che se non si pentivano rimanevano in carcere a vita senza benefici di legge, senza poter vedere più i loro parenti. Io non so se questo sia quello che avviene, penso che sia così, ma sono certo che Di Maio, bisogna spiegargli oltre alla storia, bisogna spiegargli che è brusca, Di Maio, toc toc, capo politico del Movimento 5 Stelle, brusca, già gode di benefici, è inutile che fai il fenomeno dicendo, ah, è incredibile questa cosa di brusca, com'è che dice oggi Di Maio, tutelare chi ha sciolto i bambini di illacito, basta, oh, guarda che ha preso 20, andrai a casa dopo 25 anni, non ha l'ergastolo, toc toc, ce l'hai un consigliere, ce l'hai un consigliere Di Maio, ecco, fatti spiegare queste robette qua. Nel frattempo bisognerebbe far spiegare a Di Maio che cazzo è successo ieri in Europa, perché vi ricordate a Malta che c'è uno spiegato grande accordo, Malta, poi ci vediamo l'8 ottobre, decidiamo con tutti, è finita l'epoca di Salvini, ecco, io vi racconto che cosa è successo, che i titoloni di ieri su Malta, oggi sono diventati titolini, a pagina 15 e 20 giornali, solo Borgonovo titola sulla verità oggi, è stato un flop, perché si sono visti a Strasburgo il ministro degli esteri tedesco, che doveva essere il nostro amico, il nostro alleato più grande, ha detto ragazzi, c'è un gran casino in Turchia e in Grecia, e comunque sia, dice, se da centinaia i migranti diventano migliaia, e già sono migliaia ovviamente, posso dichiarare terminato il meccanismo di redistribuzione, quindi gli stessi tedeschi dicono che sostanzialmente il meccanismo di redistribuzione non c'è, e inoltre, come titola Repubblica, il patto non decolla, perché gli altri paesi europei non lo vogliono questo patto di redistribuzione, ecco, i titoloni su Malta, abbiamo risolto le cose, la Morgese, finalmente un altro cambiamento, sono palle, sapete cosa succede? Non c'è nessun accordo europeo, il problema in Europa ormai è diventata la Grecia, perché c'è il casino con la Turchia, e tutti i barchini che troviamo in Italia ce li teniamo, la Morgese, ce li teniamo, complimenti. Nel frattempo questo è il mondo in cui tutto funziona ovviamente, e quindi noi oggi zitti e muti su una dichiarazione di Banca Italia e Istat che dicono al governo, ma questi 7 miliardi di evasione fiscale, ma dove li prendete? Fubini oggi, quello che faceva le pulce a tutti quanti i governi, non si accorge di questa vicenda e dice, beh sì, insomma è un po' complicato questi 7 miliardi, e la vera cosa è quella che scrive il messaggero oggi, che si pensa a una rimodulazione delle aliquote IVA, e lì siamo arrivati, è ritornata l'idea di aumentare alcune aliquote IVA per fare cassa. Tra poco leggerete sul sito nicolaporro.it cosa aumenterà con questa rimodulazione IVA, lo scrive Zanetti, è molto interessante e ve lo consiglio. Il Russiagate, il Presidente del Consiglio Italiano, che permette a un Ministro di Giustizia americano di parlare con i vertici dei nostri servizi segreti direttamente, si colora di un nuovo personaggio, Volpi, che non è la Coppa, è uno della Lega, che era prima sottosegretario alla Difesa e che diventa Presidente del Comitato Parlamentare per i Servizi Segreti, il Copasir, pare che se lo voglia cucinare. Direi che per oggi è tutto, il Tar ve l'ho parlato, la politica ve l'ho parlata, giornata storica. Oggi mi sento meglio, abbiamo meno parlamentari e fatturerò di più. A domani.